Sherry. Dov'è Sherry? Sherry... Sherry sta bene. Conosce Sherry? Ha davvero una forza incredibile. Che le è successo? Bisogna valutare la situazione. Chi è lei? Io sono Clara. Non l'avevo previsto. Mi scusi, dov'è Sherry? Ehi! Cosa? Dov'è? Annette, dimmi, che è successo William? Non lo so. Chi è? La creatura che ha causato questo. Cosa? Mi aiuta a trovare Sherry? Sembra si evolva più velocemente del previsto. Adesso dove va? Senti. Non ho tempo per rispondere alle tue domande. È tutto sotto controllo. Io devo trovare Sherry. Mia figlia, non è un tuo problema.